Cominciamo dando la parola a Roberto Reverberi, il team manager. Quello che abbiamo capito, dice Roberto, è che in quel gran canderone del ciclismo che è il mondo delle continentale era necessario distinguerci e abbiamo pensato di farlo concentrandoci sulla ricetta dei talenti nostriani, degli italiani e sulla possibilità di farli crescere nel gruppo con calma. Basta con la caccia al corridore straniero di cui magari sai poco o nulla, basta con un mercato che spesso si tracerà al buio. Il nostro lavoro è piaciuto agli sponsor ed è diventato un marchio di qualità che si vende bene. Di cosa parliamo? Parliamo della Colnago CSF Inox, una delle squadre più originali del panorama ciclistico. Originale per l'età media dei corridori, 24 anni, originale perché metà dei corridori sono neoprofessionisti e sono anche i tre quarti degli italiani passati al ciclismo per un mestiere nel 2012. Originale per il budget complessivo, 2 milioni di euro o poco più, meno dell'ingaggio di un solo talento di grandissimo livello come contadori. Eppure i reverberi non si sentono in serie B, anzi si sentono in serie B ma sono orgogliosi di starci, con dignità e soprattutto con la voglia di ottenere grandissimi risultati.